www.feyyaz.tv Prima che la città si muova e le persone vivano la loro vita, noi ci prendiamo cura del loro mondo, del tuo. Il gruppo Biancamano, 3.700 dipendenti, 3.200 automezzi industriali, un dispiegamento di forze che nasce dalla consapevolezza di quanto sia necessario il nostro lavoro. Un lavoro ben fatto nasce sempre da una missione chiara. Per noi, un panorama incantevole e le suggestioni che solo la natura sa dare, sono un richiamo alla nostra missione. Preservare, grazie alla nostra opera, la bellezza di ciò che ci circonda. Per farlo, mettiamo in campo tante professionalità, tante donne e uomini che condividono con passione ed entusiasmo un obiettivo e un metodo di lavoro. Un metodo che ci mette in condizione di rispondere efficacemente a ogni sfida, dal trattamento dei rifiuti tradizionali alle attività più complesse come lo smaltimento dei rifiuti tecnologici, evoluzione di eccellenza che ha preso vita nel centro di raccolta di Mondovì. Tutto questo ci ha permesso di diventare una realtà presente in tutta Italia. Affinché il tuo mondo ti mostri sempre il suo volto migliore, abbiamo creato un luogo che renda tutto questo possibile. La nostra sede non è un edificio di rappresentanza, non è un insieme di uffici amministrativi e dirigenziali. È una vera e propria centrale operativa. Un luogo dove convergono capacità organizzative, talento personale e tecnologia. Una tecnologia al servizio dell'uomo e del lavoro. Una tecnologia che ha un imperativo su tutti, l'efficienza. Tecnologia RFID per identificare i contenitori. GPRS e GSM per i veicoli. Una quantità di dati che convergono nei nostri server per non lasciare nulla al caso. La raccolta, il percorso, i tempi impiegati. Questo per prevenire i problemi e i ritardi. Per controllare che tutto avvenga nei tempi corretti affinché al tuo risveglio tu possa godere solo della bellezza. Frutto del nostro lavoro. Gruppo Biancamano. Ogni giorno restituiamo la bellezza al tuo mondo. Grazie. 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 Grazie.